Pronto Elena, ciao, sono Sara. Sì, qui ho la band Pier Romer Swing Review. Sì, hai carte e penna per caso? Bene. Loro vanno a Livigno il 24 di gennaio al Marcos Pub. Poi a Torino al BlaBla il 25. E a Pesaro poi il 26 al Prima Angar. Il 27 al Terzo Ponte Bassano del Grappa. E il 28 al Freak Out, Bologna. L'ultimo dato sarà il 29 al Cos 18. A Torino? A Milano? Sì. A Milano? A Milano. Sì, sì. Al Cos? Al Cos. E non ti dimentica la pasta. Cosa? Al Cos? La pasta. La pasta, sì, la pasta per... Sì, hai la pasta senza glutine, vero? Mi raccomando, bere e mangiare trattami di bene, vero? Sì? Ottimo. Grazie Elena, buona giornata. Ciao. Ciao.